Con Federico Contessi, che lo prendiamo un po' come team principal del team Pagaspok, gli andiamo a chiedere come è riuscito ad agguantare metà dei piloti nazionali e convincerti a correre nel team Pagaspok. Perché siamo belli. È una collaborazione nata quasi per caso, da un po' di simpatia e un'amicizia nata da un po' di anni con Demetrio, con Mauro, Erika e Michael, ci conosciamo tutti, frequentiamo tutti le stesse gare. In questa occasione c'era la loro disponibilità, abbiamo approfittato di questa cosa per completare due team, visto che noi avevamo un team e mezzo, in modo da provare a fare una 24 ore con due squadre. Al momento la cosa ci sta divertendo parecchio perché gestire 12 piloti più 3-4 persone che danno una mano è bello impegnativo, però ti fa sentire un attimino più l'atmosfera della 24 con tutte le sue sfaccettature. Non parliamo di risultati al momento perché è lunghissima ancora. Però non parliamo di risultati, non ce la vogliamo buffare prima parte di questa 24 ore da leccarsi i baffi, dai non puoi negare. Prima parte è soddisfacente, vediamo con l'andare avanti delle ore, stiamo facendo delle scelte sugli equipaggi, su chi mettere prima, chi mettere dopo, anche in previsione di una possibile pioggia, perché abbiamo un paio di piloti per squadra che se la cavano egregiamente, vogliamo tenerli un attimino in stand-by nel caso in cui il cielo dovesse incazzarsi. Va bene, non spieghiamo troppi segreti del Team Pagano. Segreto di Pulcinella, dai. Grazie a Federico Contessi, Team Pagano. Ciao a tutti, vi saluta anche Maggie che è un po' la nostra mascotte. Grazie a tutti.